Avvocato Varriale, ancora una volta le inchieste della Julie trovano riscontro nel lavoro della magistratura. Ma in effetti il lavoro che fate voi giornalisti per conto della Julie e per le altre emittenti che sono collegate per produzione alla Julie raccontano la verità, la verità scomoda e soprattutto quelle verità che tutti conoscono ma che in pochi o quasi nessuno della stamba ha il coraggio di portare avanti. Questa nuova inchiesta che comunque ha travolto Palazzo San Giacomo De Magistris, lei cosa pensa? Molti chiedono al sindaco, al primo cittadino di dimettersi. Allora, l'operazione Coppa America è stata un'operazione che ho definito una prova di regime che oggi attanaglia tutta la vita sociale campana. Cioè le istituzioni deviate o corrotte con il governo della regione e della città hanno manomesso la verità, le finalità della Coppa America per guadagnare in proprio e non solo in proprio ma per i propri partiti, per i propri interessi a discapito della gente che lavora, di quelli che pagano l'Imu, soffrono, che la mattina si svegliano alzando una saracinesca sempre più pesante, quelli che nella zoia chiaia per gli interessi personali di alcuni politici hanno fatto la fame, chi dice il contrario è un delinquente. Molte aziende della zona hanno subito dei gravi traumi economici e familiari. Quindi la Coppa America è stata una prova di regime perché ha coinvolto la stamba prezzolata, la stamba proprio quella tipicamente del regime nazifascista. Niente di diverso, soltanto che questa è una stamba intelligente, è una gestione molto molto particolare e quindi molto pericolosa perché poi è appoggiata anche purtroppo da situazioni di legge, deviate. Per quanto riguarda le dimissioni dei magistris voglio fare una precisazione e l'ho fatto sempre. Dei magistris come magistrato, io l'ho conosciuto, a prescindere il giudizio sulle sue qualità, ognuno è libero di dirle, è stato un magistrato onesto, un magistrato coraggioso e non ha avuto mai peli sulla lingua e questa è una qualità che come uomo non si può che apprezzare. Noi sapete abbiamo detto un anno prima delle elezioni che sarebbe stato il sindaco eletto, questo è stato riconosciuto anche dallo stesso Berlusconi e da Di Pietro in diretta. Quindi stimiamo il magistrato e l'uomo dei magistris. Secondo me ha fatto gravissimi errori che sono dovuti all'inesperienza della gestione di un'azienda qual è il comune di Napoli. Lettieri ha parlato di un accordo quasi tra Caldoro e De Magistris per gestire poi le attività di formazione degli eventi della campagna. Lei cosa pensa? Dele Lettieri è troppo limitativo, io penso che l'accordo De Magistris-Caldoro c'è, lo sanno tutti e anche qui ho un passaggio che mi fa dispiacere perché anche Caldoro è stato da lui promozionato, lo conosco da anni, però purtroppo anche lui sta gestendo una situazione del peggiorismo. I magistrati poi che hanno fatto questa operazione addirittura poi veramente sono da incopiare perché certamente hanno avuto il coraggio di lottare contro la peggiore situazione gestionale di regime che si potessero fare. Quindi ringraziamo la magistratura non perché arresta, perché ha aperto una breccia in questa corruzione, in questo sistema. Un'informazione così puntuale, precisa, fatta comunque dalla Giulia, risulta scomoda insomma. Noi abbiamo subito ogni tipo di ritorsione, da quella della criminalità organizzata, della camorra, appoggiata purtroppo da istituzioni deviate, ma è la magistratura che ci ha sempre sostenuto. Però abbiamo avuto un ultimo attacco attraverso il provvedimento della Corte dei Gondi, ne rispettiamo al momento l'attività, però anche lì noi abbiamo avuto un colpo alla nuca che non c'è a tramortire perché siamo abituati a lottare, ma che avrebbe tramortito avrebbe sconsigliato dal proseguire l'attività di informazione e tutte le altre realtà vere dell'informazione. L'informazione è scomoda, è una caratteristica. Poi, sicuramente i momenti di cui non ci si tendono più a parlare, significa che la camorra, quella di strada istituzionale, è stata più forte della verità e della giustizia. Personalmente la libertà non solo è della democrazia, ma è anche completamente della propria personalità.